disincantati, per cui sono sempre convinti che le aziende che fanno sì e salto fanno perché ci guadagnano. E i miei studenti dicono, e che c'è di male se c'è un win-win? Cioè che c'è di male? C'è un solo impatto. Cosa fa la pubblica amministrazione e cosa potrebbe fare? A mio parere la pubblica amministrazione dovrebbe promuovere la sostenibilità raccontata ma matchata poi con tutto quello che è stato detto ed era molto serio. Funziona molto bene, a mio parere questa è un'esperienza a cui guardare, ovviamente da ridimensionare perché i punti dal nostro sistema economico in maniera più seria e di nuovo chiederei all'Unione Europea di sostenere la proposta che vengono raccolte, come dire, dell'economia e della crisi. Grazie, io proverò a creare un collegamento su quanto ho appena detto Chiara, su due concetti, materiality allargandomi, che vorrei significato, e auto. Grazie.